Questa opera fece parte della prima mostra impressionista organizzata nel 1874 nello studio del fotografo Nadar. È il primo di una serie di dipinti dedicati al teatro e al suo pubblico. Anche se realizzato in studio, conserva la freschezza delle opere realizzate di getto, la magia di un momento tradotto sulla tela attraverso pennellati brevi e veloci. In primissimo piano i due protagonisti, il fratello del pittore Edmond vestito in modo elegante mentre incurante di ciò che sta avvenendo sul palco osserva con il binocolo il pubblico e la modella Nini, anche lei elegantemente vestita con i capelli raccolti e un filo di perle attorno al collo. Si parlava Baudelaire in una sua famosa critica d'arte al Salon del 1846. L'eroismo della vita moderna ci circonda e ci avvolge. Modernità è tutto quanto è transitorio, fugace, contingente, una metà dell'arte, l'altra metà è l'eterno, l'inimitabile. L'opera rispetta fedelmente le prescrizioni di Baudelaire non si rifugia infatti in temi storici o mitologici ma si rivolge a uno spaccato di vita contemporanea della Parigi e della Belle Epoque. È evidente il contrasto tra lo sfondo neutro, le tinte delicate delle carnagioni e i bianchi e i neri degli abiti dei due spettatori. In particolare sono resi alla perfezione i riflessi luminosi e cangianti sulle sete dell'abito della ragazza e sulla camicia dell'uomo, mentre i neri sono intensi e profondi. La gamma dei colori ci ricorda Fragonard e Boucher, gli artisti preferiti di Renoir. L'opera, seppur dipinta in atelier, come si è detto, conserva la spontaneità delle opere realizzate in plein air, presentandosi agli occhi dell'osservatore con un marcato effetto di immediatezza, a tal punto da sembrare quasi un'istantanea fotografica. Brani di particolare preziosità pittorica sono l'opulento vestito della donna, il suo incarnato candido e gli orecchini resi con poche ma decise pennellate. Edmond è colto mentre spia furtivamente gli altri estanti con il binocolo, mentre la donna rivolge il suo sguardo all'osservatore, come se fosse in attesa di qualcosa. È evidente tuttavia che i due, non nella realtà ovviamente, sono uniti da un intenso legame affettivo. Renoir lo ribadisce ponendo una continuità cromatica tra la striscia nera della veste di lei e la giacca di lui. Il quadro coglie con grande leggerezza un momento della vita spensierata della gioventù parigina di metà ottocento e per un attimo anche noi siamo catapultati in quel mondo fatto di luci, abiti eleganti, sguardi indiscreti e gioia di vivere. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando! Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!